Novena a Saint-Cherbelle Nono giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Saint-Cherbelle, ora sono arrivata al termine di questa novena. Il mio cuore è felice quando parlo con te. Sono fiducioso di ricevere da Gesù la grazia che ho implorato per tua intercessione. Mi pento dei miei peccati e ti prometto di combattere le tentazioni. Spero nell'adempimento della mia preghiera. O Saint-Cherbelle, coronato di gloria, prega per me. O Signore, Tu hai ascoltato le preghiere di Saint-Cherbelle e le hai donato la grazia della comunione con Te. Abbi pietà di me nella mia disperazione. Salvami dalle mie sfortune, perché non sono capaci di sopportarle. A Te onore, lode e grazia per sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera quotidiana in onore di San Gerbel. O Dio buono, misericordioso e amorevole, mi prostro dinanzi a Te e Ti mando dal profondo del mio cuore una preghiera di ringraziamento per tutto ciò che mi hai concesso per intercessione di San Gerbel. Ti sono molto grato, o mirabile San Gerbel. Non trovo le parole giuste per esprimere il mio riconoscimento per il beneficio ricevuto. Aiutami sempre, affinché sia sempre degno delle grazie di Dio e di meritarmi la Tua protezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video, e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie. 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 Grazie.